... Vediamo da sinistra a destra Prati, Cudicini, Schnellinger, Rivera, Rosato, Malatrasi Lancio a seguire di Rivera, corpo di testa di Sormani Sormani, passaggio al centro Ha toccato Amrin, stava per tirare Prati Raccoglie Anquilletti, sposato d'attacco, Prati Palo, palo al primo minuto, palo del Milan Dopo 35 secondi, prosegue l'azione con Sormani Che alza sulla traversa Poi allunghi in avanti a Prati Attende Prati che avanzi Lodetti E sulla sinistra è andato Sormani Salta molto bene Sormani Pulshoff, Sormani, traversone Colpo di testa di Prati Ed è gol Prati, Prati ha portato in vantaggio il Milan Rivera al centro Rivera riceve Sormani va a piazzarsi Rivera, colpo di tacco per Prati Prati, tiro 2 a 0 Rete di Prati 2 a 0 per il Milan Raddoppio di Prati Poverisce involontariamente l'azione di Cruyff Sbuccia la palla Keiser Per l'intervento di Lodetti Che causa il calcio di rigore Sempre Vasovic incaricato del tiro Rete Vasovic Ha segnato E stiamo pertanto 2 a 1 Mentre vediamo un contropiede del Milan E Sormani a effettuarlo Cerca la luce, tira di sinistro Rete 3 a 1 Ha segnato Sormani Siamo al ventunesimo della ripresa Sormani ha portate a 3 Le reti per il Milan Rivera Ecco lo scambio bello Forse ci siamo Ci siamo No, dopo tardi Dopo tardi Pallone Rete di Pierino Prati Ancora 4 a 1 Rete di Pierino Rete di Pierino